Lavori in consiglio, in regione slitta la votazione sulla doppia preferenza di genere, assente il governatore, approvate invece le modifiche per l'attività del genio civile. Il bimbo al muro, nessun commento da parte del preside e degli insegnanti della scuola frequentata dal piccolo disabile di Crotone, ai nostri microfoni l'analisi di un neuropsiatra infantile. Il delitto pagliuso, dopo gli sviluppi delle indagini, la sorella del penalista ucciso alla messia terma il 9 agosto del 2016, ai nostri microfoni dice sono certa che presto si arriverà giustizia per l'omicidio di mio fratello. La Calabria trema, poco dopo le 7 del mattino una scossa di magnitudo 4.2 è stata registrata a Largo di Palmi. Il terremoto avvertito anche nel Vibonese, bloccato in via precauzionale il traffico ferroviario tra Reggio e Roserno. Protocollo di intesa. A Vibo la firma per l'attuazione di un parco archeologico agronaturalistico, finalizzato alla promozione e la riqualificazione ambientale e paesaggistica del territorio. Buonasera, dalle sue buon passo, bentornati alla nostra informazione. Partiamo dalla politica e dai lavori in seno al Consiglio regionale. Era attesa infatti per oggi la votazione per la norma che dovrebbe bilanciare la rappresentanza tra uomini e donne a Palazzo Campanella. Il governatore è assente e tutto viene rinviato. Il governatore Oliverio vola in Canada e a Reggio Calabria slitta la votazione sulla legge per la doppia preferenza di genere. Come affermato dalla stessa promotrice della norma, la consigliere regionale Flora Sculco, il presidente della Giunta, oltreoceano per impegni istituzionali, ci tiene ad essere presente a Palazzo Campanella per la votazione. Servono anche però degli approfondimenti per evitare che il provvedimento venga bocciato dalla Corte Costituzionale. La consigliere a Sculco però si sente sicura per l'approvazione della sua proposta. L'impegno del presidente del Consiglio regionale Nicola Irto è quello di inserirlo al prossimo Consiglio regionale utile e anche il dibattito che oggi si è sviluppato in aula mi fa immaginare che il sentimento è positivo, che il risultato ormai è a portata di mano. Quindi la Calabria avrà una legge che consente all'elettore di esprimere una doppia preferenza. Una seduta abbastanza veloce quella odierna che ha visto in apertura un momento di tensione quando il consigliere Domenico Tallini di centrodestra associandosi a Claudio Parenti ha chiesto al presidente Irto circa i provvedimenti disciplinari presi nei confronti del capo della protezione civile regionale Carlo Tanzi per i vari messaggi lanciati tramite Facebook in cui quest'ultimo critica l'agire del Consiglio regionale e di Tallini stesso. Il consigliere di minoranza ha annunciato quindi l'avvio di una iniziativa disciplinare nei confronti di Tanzi. In battuta finale l'aula ha approvato la modifica della legge riguardante le attività del genio civile proposte dal consigliere Giuseppe Pedà. Dà la possibilità ai professionisti di prendersi in prima persona le responsabilità del progetto che prendono e quindi anche degli uffici di poter in maniera più pratica snellire la pratica burocratica. Angela Panzera per la CNews 24 Siamo adesso alla cronaca terribile incidente stradale tra una moto e due biciclette nei pressi del bivio di Panaia frazione del comune di Spilinga. Un uomo di nazionalità tedesca è deceduto sull'elisoccorso dove era stato caricato dai sanitari del 118 a causa delle gravità delle ferite riportate. Ferito in maniera grave invece un 27enne di Coccorino frazione del comune di Ioppolo che si trovava a bordo della moto. Il ragazzo Marco Vecchio è stato trasferito in un codice rosso e nel isoccorso all'ospedale di Reggio Calabria sull'incidente. Hanno avviato indagini carabinieri della stazione di Spilinga e della compagnia di Tropea. Non vuol rilasciare dichiarazioni il dirigente scolastico della scuola Maria Montessori di Crotone riguardo al caso del bambino disabile messo faccia al muro. Ve l'abbiamo raccontato ieri, la famiglia del piccolo non si è voluta esporre anche perché la situazione sembrerebbe andare verso una risoluzione. Ne abbiamo interpellato uno psichiatra infantile. Sentite le sue parole. Scusate, allora il dirigente ha detto che non lascia nessuno di carrizzare. Quindi, siccome c'è un procedimento, non è in atto... No, è... Il problema è che ha preso questa decisione sia nel progettare il giocatore che nel progettare il scopo. Sto bene? Bocche cucite da parte del dirigente scolastico della scuola Maria Montessori di Crotone, teatro di un esperimento, tra virgolette, nel quale un bambino affetto da handicap è stato messo a sedere su un banco con il viso rivolto al muro, dando le spalle a maestra e compagni di classe. Questa situazione inusuale ha insospettito il padre, che si è rivolto al garante dell'infanzia Antonio Marziale. La famiglia del piccolo ha deciso di non uscire pubblicamente, anche perché c'è di mezzo un minore affetto da sindrome di Down, e la situazione sarebbe comunque in via di risoluzione. Questa storia ha scosso, però, la comunità crotonese. Abbiamo chiesto un parere a un esperto per avere lumi riguardo a questo metodo utilizzato alla scuola Montessori. Io assolutamente ignoro una metodica di questo tipo, anzi, dal punto di vista mio dico che è assolutamente controproducente. Cioè, tutto il lavoro che si fa sui bimbi o sui soggetti portatori di enti va verso l'integrazione. Giuseppe Laratta per l'AC News 24. Sono certa che presto si arriverà giustizia per l'omicidio di mio fratello, così Antonella Pagliuso, sorella della penalista ucciso alla Mezzia Terme, come ricorderete, il 9 agosto del 2016, commenta gli sviluppi nelle indagini. Che le indagini andassero avanti io non ho mai avuto dubbi. Mai, in nessun momento di questi 25 mesi e 19 giorni. Antonella Pagliuso, sorella dell'avvocato Francesco, giovane penalista di successo ucciso, la sera del 9 agosto del 2016 davanti casa alla Mezzia Terme, commenta così gli sviluppi nelle indagini. Mentre in carcere, con l'accusa di essere l'esecutore materiale del delitto, c'è il 33enne Marco Gallo, nel mirino della DDA, proprio a partire dalle testimonianze raccolte nelle investigazioni, sono finiti due avvocati. Il primo, Antonio Larussa, deve rispondere dell'accusa di favoreggiamento e minacce. Il legale avrebbe favorito la latitanza di Daniele Scalise, ucciso nel 2014. Un'accusa, quella che pende sulla russa, slegata al momento dal delitto, ma cui si sarebbe arrivati proprio durante le indagini su questo. L'avvocato avrebbe invitato Pagliuso nel proprio studio, facendogli trovare il latitante intenzionato a recriminare al penalista di aver assunto la difesa di Domenico Giovanni Mezzatesta nel processo per il duplice omicidio di decollatura. Un faccia a faccia organizzato senza preavvertire Pagliuso, che trovatosi di fronte e ricercato, avrebbe abbandonato l'incontro. Il secondo legale indagato, invece, è Tulli a pallone. A lei viene contestato il favoreggiamento alla russa. Due filoni di indagine che partono da quanto raccolto dagli inquirenti in merito al delitto, ma che al momento non vengono considerati strettamente legati o con causa del delitto stesso. Ma gli investigatori vanno avanti a tutta dritta per ricostruire tutti quegli elementi che avrebbero animato il contesto in cui l'omicidio, inteso probabilmente come azione punitiva, ha preso forma. La verità sul mio fratello verrà fatta. Certo, questi step delle indagini per noi, per noi della famiglia, per me, non sono semplici da affrontare. Ma siamo certi che la giustizia per Francesco sarà fatta e sarà fatta così come lui si aspetta. Tiziana Bagnato per la CNews24 Andiamo adesso alla paura avvertita stamattina durante la forte scossa di terremoto registrata, a largo di palmi, ma sentita in più zone della Calabria. Sentite il terremoto? Sì, sì, stamattina l'abbiamo sentito abbastanza. Le lancette segnavano le 7.24 quando la terra è iniziata a tremare. Una scossa avvertita in quasi tutta la regione, soprattutto nella parte sud-occidentale della provincia regina. L'epicentro del sisma, di magnitudo 4.2 della scala Richter, è stato registrato a largo della costa di Palmi, a 11 chilometri di profondità. E proprio a Palmi, molti cittadini si sono riversati in strada, con il cuore in gola e la paura di nuove scosse. È stato molto forte, erano le 7.25 più o meno e mi ha svegliato, praticamente il letto si muoveva in un modo impressionante. Comunque è stata una scossa forte, poi nelle prime ore del mattino comunque eravamo in dormiveglia, quindi veramente tanta paura, davvero. Per fortuna è finito presto. Si è sentito bene, si è sentito bene e avevo paura della seconda scossa veramente, non della prima. Le scuole in città sono rimaste chiuse, mentre amministrazione comunale, protezione civile e polizia locale hanno allestito il centro operativo comunale, per monitorare la situazione e avviare le prime verifiche negli edifici pubblici. Non c'è stato alcun danno né a cosa né a persona, quindi abbiamo verificato anche eventuali cornigioni, non c'è stata nessuna segnalazione. Sentendoci anche con la protezione civile regionale, infatti è venuto anche Tansi, ha fatto un giro, abbiamo predisposto una squadra di tecnici che stanno facendo delle verifiche strutturali sulle scuole. Stiamo continuando a monitorare la situazione, visto che si stanno continuando ad avvertire dei piccoli sciami sismici. Non creiamo nessun tipo di allarmismo, è tutto molto tranquillo. Gli istituti scolastici sono rimasti chiusi anche a Seminara, Polistena e Rosarno, mentre RFI ha bloccato il traffico ferroviario sulla linea tirrenica tra le stazioni di Reggio Calabria e Rosarno. Insomma, nessun ferito ma tanta paura, perché la memoria in questi casi riporta al terribile terremoto del 1908 e alla consapevolezza di camminare su una delle zone sismiche più pericolose d'Europa. Francesco Altomonte per la Cineus 24. E dalla paura terremoto alla paura uragano che dovrebbe investire nelle prossime ore la costa ionica. L'uragano Mediken sta arrivando e l'Italia trema. Secondo gli esperti si tratta della più grande tempesta del Mediterraneo da quando si raccolgono i dati, con venti che supereranno i 160 km orari. Si forma in genere a fine stagione, con l'arrivo delle prime correnti fredde che incontrano l'acqua calda di fine estate. La tempesta dovrebbe raggiungere la sua forma più completa nel corso della giornata di oggi, a largo delle coste siciliane, e dagli ultimi aggiornamenti sembra possa avvicinarsi pericolosamente anche alla Calabria ionica. E' paura, quando arriva, arriva. Che dobbiamo fare? No, perché qua siamo al sicuro. C'è la protezione del porto da tutti, l'umomare ci protegge qua. Già noi siamo riduci da un alluvione e quindi ho visto l'acqua entrare dentro. Prima di tutto bisognerebbe pulire i tombini, tutti i viedotti che sono sporchi, quello non lo fanno mai e quindi è necessario fare quello. E purtroppo c'è da preoccuparsi in situazioni di emergenza, quali possono essere un urugano oppure un terremoto o qualcosa del genere. Ma è preoccupato dell'urugano? Beh, dell'urugano ci preoccupiamo tutti, ma come arriva in America non crede che arriva qua. Non può arrivare qua. Il mare però stamattina è mosso. È mosso, io sono venuto lo stesso, cioè non abbiamo paura noi qua, ci arrenciamo. Adesso date che non c'è pesce, me ne vado a casa. Ilario Balì, per la CINUS24. A Cosenza invece prosegue il dibattito legato alla ZTL. Per adesso la ZTL nel centro storico rimane, ma l'amministrazione di Palazzo dei Bruzzi sta valutando una serie di correttivi da apportare al provvedimento varato poco prima dell'estate e fortemente contestato da negozianti e residenti. Il comune ha aperto un dialogo attraverso la commissione consigliare trasporti presieduta da Gisberto Spadafora per arrivare ad una soluzione condivisa. La seduta ha ospitato anche il parroco della cattedrale, Don Luca Perri, la professoressa Silvana Gallucci, rappresentanza del liceo classico, e Michela Felicetti, presidente della neonata associazione CAEP. Riteniamo che i tempi non siano maturi per costituire una ZTL, che ancora si debbano costituire tante nuove realtà economiche. Naturalmente noi avremo bisogno anche di servizi per i residenti. Sul tavolo, tra le altre, anche l'idea di modificare la viabilità su Via Paradiso, breve tracciato di collegamento tra Piazza 15 Marzo e la Fontana dei 13 Canali, con istituzione del senso unico verso la piazza stessa, l'assenza di uno sbocco per Portapiana, Guarassano o Donnici costringerebbe gli automobilisti ad utilizzare un percorso alternativo a Corso Teresio, dove, di conseguenza, il traffico sarebbe di fatto limitato solo ai residenti o a chi ha interesse a raggiungere il Duomo, un esercizio commerciale o un altro qualsiasi luogo posto lungo quella strada. L'opposizione inoltre ha chiesto un più efficiente servizio di trasporto dell'Amaco, ma anche di valutare lo spostamento in centro storico di alcune manifestazioni di interesse pubblico, come la Fiera di San Giuseppe o la Festa del Cioccolato. Stiamo cercando di trovare la quadra sulla base di quelle che sono le esigenze di tutte le parti interessate. Ovviamente noi portiamo avanti la linea dell'amministrazione, che è quella di favorire il passeggio a piedi, restituire quindi la città ai cittadini, ai pedoni e non alle automobili. Salvatore Bruno per la Cineus 24. Un'eccellenza delle investigazioni in materia di criminalità organizzata al comando provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valencia. Insediatosi già da qualche settimana il colonnello Prosperi. Stamattina ha incontrato i giornalisti. Dagli affari dell'immobiliarista Coppola e degli altri furbetti del quartierino ai santuari della Camorra, dei Mallardo, dei Casalesi. Già comandante della scuola di Orvieto quella in cui le fiamme gialle addestrano i propri baschi verdi, passando per il vertice del Gico di Napoli. Pesca nell'elite del corpo la Guardia di Finanza che ha scelto Roberto Prosperi quale nuovo comandante provinciale di Vibo Valencia. Insediatosi già da qualche settimana, nella sede di Vibo Marina ha incontrato i giornalisti. Prosperi mostra grande determinazione, forte del suo bagaglio d'esperienza sul campo, in situazioni operative ed in contesti ad alto rischio. Il nostro primo obiettivo è quello di dare un contributo alle imprese sane, ai numerosi cittadini onesti, per fare in modo che questa piaga della criminalità organizzata in qualche modo sia contrastata in maniera più efficace. Consapevole dell'arduo compito che lo attende, contro cosche, traffici di droga, zone grigie della politica e dell'economia, manche e truffe, evasioni fiscali e illegalità diffusa, ribadisce piena fiducia negli uomini che lo affiancano, ribadisce fiducia nel corpo e nell'autorità giudiziaria. Però è al cittadino che rivolge le sue principali attenzioni. Sono sicuro che troveremo terreno fertile per lavorare insieme in maniera serena, ma soprattutto per far passare il messaggio che il finanziere dell'opinione pubblica non è soltanto colui che viene purtroppo ricordato o per fortuna dipende dai punti di vista per l'emissione dello scontrino del giudice fiscale, ma è ben altro. Il finanziere è una persona molto preparata che lavora a 360 gradi. Pietro Comito per la CINUS24. Restiamo a Vibo Valencia che avrà il suo parco archeologico agro-naturalistico. A dare il via al progetto Croce Neviera, il grande parco archeologico agro-naturalistico del Vibonese, è stato un protocollo di intesa siglato tra il comune di Vibo Valencia, Santo Onofrio, Stefanaconi, la sovrintendenza archeologica, la Camera di Commercio, il Polo Museale Regionale e la Diocesi di Mileto. Questo progetto finisce per stabilire una connessione tra il parco archeologico e le città che sono vicine, in maniera tale che si possa tutte assieme creare le condizioni perché non subisca tanni, soprattutto attraverso una sorta di vigilanza da parte di tutti i cittadini. Frutto di un'idea collettiva che ha visto la collaborazione di tante associazioni archeologiche, turistiche e agricole territoriali. Uno degli obiettivi è rendere fruibili a tutti le aree archeologiche. La cosa più importante è partire da questo perché con la partecipazione è possibile superare le difficoltà di gestire lo straordinario perché sarebbe ordinario frequentare i luoghi archeologici. Il progetto vuole valorizzare e rendere attive le risorse agricole ed archeologiche, cuore pulsante del territorio. L'obiettivo è gestire tutta questa meraviglia con l'armonia dell'agricoltura che quindi diventa il mezzo per fare manutenzione tutti i giorni in quell'agricoltura che gestisce la terra, incanalando le acque, gestendo i muretti che servono per non far crollare i costoni. Davibo Valencia per la CNews 24. Le eccellenze calabresi verranno premiate a Washington. L'America esalta la creatività e il talento italiano. Il 13 ottobre a Washington saranno premiate alcune delle aziende italiane che si sono particolarmente distinte in progetti innovativi e il premio eccellenza ha giunto quest'anno la quinta edizione. Un riconoscimento all'italianità migliore pensato da Massimo Luci di giornalista economico internazionale ed esperto di marketing e comunicazione con l'intento di mettere in vetrina il Made in Italy. Un premio pensato a Washington cinque anni fa per raccontare l'Italia del merito e del talento. un racconto possibile anche qui in Calabria. Io sono molto orgoglioso e contento di essere in Calabria. Io sono campano ma conosco voi da sempre perché bisogna cambiare i termini del racconto non più solo i problemi che quelli ci sono ma soprattutto le prospettive dando speranza a tanti interlocutori che abbiamo. In primo luogo le imprese che sono imprese già presenti nel mondo e che portano a alte le nostre tradizioni, i nostri valori, la nostra cultura. Le diverse esperienze imprenditoriali sono state selezionate da un pool di esperti italiani e americani tra le dodici imprese prescelte anche alcune calabresi i cui nomi saranno svelati solo il giorno della premiazione che si svolgerà il 13 ottobre prossimo nella capitale degli Stati Uniti. Cristina Iannuzzi per la CNews24. Intanto ad Altomonte torna la festa del pane giunta alla dodicesima edizione. La novità dell'edizione 2018 della gran festa del pane di Altomonte è l'allestimento di un forno solidale a disposizione della comunità dove chiunque potrà cuocere il proprio prodotto. Abbiamo immaginato di poter far nascere il primo forno solidale ad Altomonte la possibilità per chiunque di poter fare il suo pane e questo chiaramente ha un obiettivo non soltanto di recupero dell'identità ma anche un elemento importante per quanto riguarda la capacità di ricreare coesione nella comunità. Io penso che il sogno è quello di immaginare che nel tempo possa nascere un forno solidale di comunità in ogni paese. La carmessa articolata nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 settembre è stata presentata in conferenza stampa. Nella sala degli stemmi della provincia di Cosenza alla presenza del presidente Franco Iacucci Antonio Blandi nell'organizzazione dell'evento sarà affiancato dallo chef Enzo Barbieri che nel 2007 ideò la manifestazione. Ritornano i forni accesi che è la cosa caratteristica di questa nostra gran festa del pane ritornano i grandi maestri del pane ma soprattutto il tema è molto bello questo pane condiviso, questo pane dell'umanità. La festa del pane tradizionalmente prevista a maggio si svolge ad inizio autunno grazie all'impegno del commissario straordinario che non ha voluto rinunciare all'appuntamento nonostante la mancanza di un'amministrazione in carica. Ritengo che sia un evento socialmente rilevante per la comunità perché intanto promuove le bellezze del territorio. Salvatore Bruno per la Cineus24 Reggio Calabria invece ha ospitato la giornata nazionale dello sport paralimpico c'eravamo anche noi. Reggio Calabria ha ospitato la giornata nazionale dello sport paralimpico. L'evento giunto alla dodicesima edizione si è svolto in contemporanea a Roma e a Milano. La città dello stretto è stata invasa da duemila atleti provenienti da tutto il meridione e tantissimi studenti. Testimonial di eccezione, l'atleta della nazionale italiana nuoto Vincenzo Boni è la campionessa di tiro con l'arco originaria di Tauria Nova, Enza Petrilli. Veramente c'è tanta gente, questa cosa è una cosa bellissima, tante persone, tanti ragazzi soprattutto e speriamo che la gente possa capire che il movimento paralimpico è un movimento importante quanto il movimento cosiddetto normodotato. Se si pratica lo sport, la disabilità poi la vedi in secondo piano, non la pensi così tanto se invece rimani a casa a piangerti addosso. Una vera festa dello sport, ma soprattutto un'occasione per far conoscere ai giovani e ai cittadini l'importanza e le potenzialità delle discipline paralimpiche come strumento di benessere e di integrazione. In questo modo si dà la possibilità alla Calabria intera e a Reggio in modo particolare di rilanciare l'attività paralimpica attraverso questa giornata meravigliosa. Questa è la mission di questa giornata, cioè quella di riuscire a parlare affinché tutte le barriere vengano abbattute. È una giornata importante sicuramente perché si vive insieme lo sport, si vive lo stare bene nello sport, si fa conoscere questa bella realtà come lo sport paralimpico e tutte le splendide attività che si possono svolgere pur avendo dei problemi. Angela Panzera per la Cineus 24. E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di chiudere vi ricordo che potrete rivedere questa e altra edizione del nostro telegiornale con esse a tutti i nostri servizi sul sito lactv.it. Grazie e buona serata. Visita il sito www.lacineus24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. La Cineus 24. Edizione giorno alle 14 e 15 ed edizione sera alle 20 e 30. La Cineus 24. La Calabria che fa notizia.